E' morto improvvisamente all'età di 73 anni Angelo Gaggiano, dirigente di polizia, per anni in servizio anche nella questura di Pesaro e Urbino. Laureato in giurisprudenza era entrato nella polizia di stato come funzionario. Ha prestato servizio in diverse città italiane, tra cui Genova all'epoca del G8. Gaggiano ha diretto anche i commissariati di Fano e Urbino. Nella città ducale arrestò un procacciatore finanziario che aveva dilapidato miliardi di vecchie lire in risparmi a tantissime famiglie urbinate. I colleghi lo avevano soprannominato Muscolotto per il suo stile di vita salutista. Lo ha stroncato un infarto fulminante nel cuore della notte, nonostante Gaggiano stesse benissimo e mostrasse un fisico da quarantenne. In pensione dal 2004 lascia la moglie Marilena e i figli Alessandro e Ivana, due professionisti di spessore. Il suo funerale si terrà martedì 18 alle 16.30 a Pesaro, nella chiesa dei Cappuccini.